Prova di Dragon Blaster versione 0.9 Una homebrew per Sega Master System Abbiamo già visto questo videogioco in un video le prove sgangherate Però era una versione precedente a questa Qui le cose sono progredite un pochino Ma il gioco è ancora in una fase iniziale di programmazione E' un'idea interessante, uno sparatutto scorrimento verticale Al momento è ancora impossibile perdere la partita C'è un boss ma non si riesce ad eliminare A un certo punto poi scade il tempo e basta Una delle cose più carine è la possibilità di trattenere due tipi diversi di fuoco E li possiamo vedere in alto a destra Se vi può interessare in descrizione trovate il link per scaricarlo